che vogliono strappare a tutti i costi al campione in carica Alain Prost. Tuttavia, il bottino di Ayrton a fine stagione può considerarsi molto positivo. 8 pole position, 8 podi, una seconda vittoria sul circuito cittadino di Detroit e per il secondo anno di fila il quarto posto in classifica generale. Dietro a Prost, campione per il secondo anno consecutivo, e dietro a Nigel Mansell e Nelson Piquet con le Williams Astronomiche. Nel 1987 la Renault si ritira dalle corse, temporaneamente perché tornerà poi qualche anno più tardi. Perciò la Lotus trova un accordo per la fornitura dei motori con la Honda. Quindi, ora, Ayrton ha a disposizione una Lotus Honda. Ayrton ha il suo terzo anno consecutivo con la Casa Britannica e viene affiancato dal debuttante Satoru Nakajima. La Lotus non è più nera con i filamenti oro eleganti. È gialla, grazie allo sponsor sigarettaro della Camel. L'inizio di stagione è caratterizzato da fortune alterne, perché dopo un bellissimo podio al Gran Premio di San Marino, a Spa Ayrton è protagonista di un contatto molto controverso con Nigel Mansell, il quale rientra ai box, corre verso i garage Lotus per fare appugni con il brasiliano, perché a suo dire è responsabile della collisione. Benché i meccanici cerchino di fare del loro meglio, la rissa tra Nigel e Ayrton è inevitabile. Comunque, dopo Spa, seguono due vittorie. A Monaco, la prima di un incredibile record di sei vittorie e per il secondo anno consecutivo ancora a Detroit. Esiste ancora un notevolissimo divario di carattere tecnico con la Williams, che però riesce a sopperire con l'abilità dei suoi piloti, Mansell e Piquet, che continuano a darseli di santa ragione per la lotta per il titolo. Poi arriva Monza, e Monza è solitamente il circuito nel quale si annunciano i grandi passaggi, e a Monza viene annunciato pubblicamente e ufficialmente il passaggio di Ayrton alla McLaren, come compagno di squadra del due volte campione del mondo, Alain Prost. Si dice, nonostante questo annuncio, Ayrton finisce in maniera molto convincente la stagione, dove sale sul podio in Giappone e nell'ultima gara ad Adelaide in Australia, dove però viene squalificato al termine della gara a causa di un'irregolarità tecnica. Ayrton conclude la stagione al terzo posto in classifica generale, dietro a Piquet, che si è laureato campione del mondo per la terza volta in carriera, e Nigel Mansell. E così arrivano gli anni della McLaren. Ayrton si trova in squadra il professore Alain Prost e dopo un primo inizio, tutto sommato amichevole, inizia una rivalità che scriverà pagine incredibili e indimenticabili nella storia della Formula 1. La superiorità tecnica della McLaren è incredibile. La McLaren, l'AMP, quindi la Project 4 numero 4, motorizzata Honda, consente ad Ayrton e Alain di dominare il campionato, aggiudicandosi 15 Gran Premi su 16 e riducendo di fatto il Mondiale a una lunga lotta tra di loro, anche se l'inizio di stagione di Ayrton è un po' altalenante. Ayrton viene squalificato nel Gran Premio di Casa in Brasile perché utilizza il muletto che all'epoca era vietato dal regolamento. Poi si ritira a Monaco a poche tornate dalla fine per un incidente stupido a poche tornate dalla fine dove è in testa con un vantaggio di oltre un minuto ma lui continua a tirare, tirare, tirare e alla fine va a sbattere all'uscita della curva del portier e regalando a Alain una vittoria che ormai era più che certa. Però con l'avanzare della stagione Ayrton si rifà e inanella una striscia positiva di sei vittorie in sette gare portandosi in testa la classifica con un vantaggio di pochi punti sul rivale. La battaglia tra Alain e Ayrton diventa sempre più accesa e raggiunge il suo apice al Gran Premio del Portogallo dove immediatamente dopo il semaforo verde Ayrton spinge la macchina di Alain contro il muretto dei box nel tentativo di mantenere la testa della corsa. Ayrton passa temporaneamente in testa ma Alain se la lega al dito e nonostante tutto riesce a portare al termine la manovra sorpassando Senna e involandosi verso la vittoria. Ovviamente questa manovra non può non avere strascichi. Alain accusa acerrimamente il compagno di squadra per aver messo a repentaglio la gara di entrambi. E' un campionato incredibile e si decide alla penultima gara in Giappone a Suzuka. All'epoca i punteggi non sono totali per cui se vinci in 10 Gran Premi e accumuli quindi 90 punti devi scartare due risultati e in questo caso a causa di questa regola degli scarti ad Ayrton basta una vittoria per diventare campione nonostante in classifica Ayrton Alain abbia più punti. In qualifica Ayrton vola e ottiene la dodicesima pole position stadionale questa volta però vanificata da un'esitazione in partenza che lo fa scivolare indietro a metà gruppo ma Ayrton e Ayrton non si arrende e si lancia in una rimonta nei confronti del compagno che si concretizza con un sorpasso sul rettilineo al ventottesimo passaggio e con questo trionfo Ayrton vince il suo primo titolo mondiale laureandosi laureandosi matematicamente con una gara di anticipo con un bottino stagionale di otto vittorie tredici pole position al discapito delle sette vittorie del compagno l'anno seguente il 1989 è un po' la falsa riga dell'anno precedente le McLaren sono dominatrici assolute e Ayrton è protagonista di tre vittorie nelle prime quattro gare al Gran Premio di San Marino sempre sul circuito di Imola che è la seconda prova del mondiale la rivalità con Alain esplode definitivamente la sospensione della gara in seguito al violentissimo incidente di Gerhard Berger al tamburello nel quale l'austriaco riporta dell'eustio nelle mani comporta l'organizzazione di una seconda procedura di partenza Alain scatta meglio portandosi in testa ma Ayrton lo passa dopo poche curve non rispettando un accordo chiamiamolo un gentleman's agreement preso prima del via si ripete un po' la storia del duopolio tra Gilles Villeneuve e Didier Pirony stessa pista 1982 sette anni prima Ayrton si vola verso la vittoria Prost non riesce ad avvicinarsi a fine gara i due si azzannano si scambiano accuse reciproche con il francese che arriva addirittura a minacciare la squadra di non correre il gran premio seguente se Ayrton non si fosse scusato nelle gare successive però Ayrton viene fermato da alcuni problemi di affidabilità che permettono quindi ad Alain di prendere la testa del campionato con un buon margine a tre gare dalla fine quindi il divario tra Alain e Ayrton è di ben 24 lunghezze la matematica lo costringe a vincere tutte le gare rimanenti per confermarsi campione del mondo Ayrton vince Spagna dove domina la gara precedendo Berger e Prost e mancano due gare Giappone e Australia Giappone qui avviene lo scontro lo scontro degli scontri alla partenza Ayrton viene sopravvanzato da Alain Ayrton partiva dalla pole position Alain guadagna circa 5 secondi di margine ma poi Ayrton comincia a recuperare terreno e gli si porta in scia e lo segue pazientemente giro dopo giro giro dopo giro giro dopo giro finché al 46esimo giro nel disperato tentativo di portarsi in testa e quindi mantenere vive le scienze iridate Ayrton lo attacca alla Casio Triangle ma Alain chiude proditoriamente la traiettoria e i due si agganciano terminando la loro corsa nella via di fuga Alain scende dalla vettura ormai ride perché è sicuro di aver conquistato il titolo mentre invece Ayrton rimane al volante fa dei cenni ai commissari per ripartire i commissari lo spingono e lui riesce a rimettere in moto rientra in box come una furia il suo musetto è danneggiato rientra riparte rientra in pista alle spalle di Anessandro Dannini rimonta velocissimamente e al cinquantesimo passaggio lo supera conquistando infine la vittoria ma c'è la sorpresa perché subito dopo la gara Ayrton viene squalificato la motivazione è aver tratto vantaggio dalla spinta dei commissari rientrando in pista attraverso la via di fuga della chicane anziché percorrendo la medesima Alain benché ritirato diventa così campione del mondo per la terza volta in carriera e la vittoria viene assegnata ad Alessandro Nannini prima vittoria per il Toscano che in seguito avrebbe avuto uno pseudo contratto con la Ferrari e un terribile incidente con un elicottero che lo avrebbe lasciato mutilato ma esattamente come il nostro Alessandro Zanardi niente può fermare gli eroi e Alessandro torna e vince e stupisce tutti al volante dell'Alfa Romeo nel DTM tornando ad Alain l'episodio di Suzuka lo colpisce come un fulmine è deluso vuole addirittura abbandonare la dell'alfa l'alfa Romeo Grazie a tutti.